ciao a tutti come state? ciao Briga e benvenuto, come stai? grazie, dai dai forza facciamo sentire le vostre voci anche il pubblico siete qua a Tegliano l'avancello commerciale, Orio Center Briga come stai? come stai? come stai? come stai? come stai? come stai? e mi fai una cosa fai un po' il tempo è lo stesso tempo e ho fatto non sento nessuna effetto ma no ora passami prima di farò il treno se fa il suo nascerino sei la cosa più bella che no che cosa resta di noi da qualche parte andremo e se non essere noi tu ce lo sai che ti perdonerò sulle mani percorrere sulle mani percorrere l'acqua in volo ho perso gli occhi nel buio con fuori amico e il dio pianghe dentro a me percorrere sotto alchimurio sulle mani Sì! Sì!